buonasera ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it tragico incidente sulla tangenziale di varese a perdere la vita una coppia di 19 anni chiara celato e cristian pallaro nella tarda serata di ieri la 500 su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un furgone vediamo il servizio di veronica de riu le immagini sono di blitz quando gli operatori sanitari si sono trovati di fronte alla 500 ribaltate il furgone hanno capito immediatamente che due giovani fidanzati 19 anni avevano pochissime speranze di sopravvivere allo schianto frontale è successo tutto molto velocemente lunedì notte sulla tangenziale nord est di varese non era ancora a mezzanotte di lunedì 24 luglio quando c'è stato lo schianto frontale l'utilitaria ha perso aderenza sull'asfalto mentre viaggiava in direzione valle olona e si è riboltata sul posto restando incastrata fra il furgone e la paratia stradale sono partiti immediatamente i soccorsi allertati al 112 è stata chiusa la strada e dalla centrale operativa di areo sono state inviate ambulanze automedica con la massima urgenza le operazioni di soccorso sono state molto complicate a causa di grandine pioggia inoltre i mezzi stavano perdendo carburante dopo l'impatto quando i vigili al fuoco hanno estratto cristian pallaro e chiara celato dalle lamiere ogni manovra salvavita è stata inutile e poco dopo mezzanotte i medici hanno dovuto arrendersi e dichiararne il decesso lutto e cordoglio a varese ad arcisate per la morte di chiara e christian descritti da tutti come due ragazzi modello vediamo il servizio di elisa petrocelli con immagini di agenzia blitz due ragazzi solari pieni di vita sogni e speranze stroncati nell'incidente avvenuto ieri sera a varese sulla tangenziale nord est la tragedia ha convolto i fidanzati entrambi i 19 anni chiara celato e cristian pallaro chiara appena diplomata lecce scientifico era pronta a godersi le vacanze estive prima di cominciare l'università e gli allenamenti di pallavoro per la nuova avventura in seconda divisione i genitori la descrivono come una ragazza meravigliosa che si va a voler bene da tutti anche christian è un ragazzo pieno di passioni educatore in oratorio e allenatore per i bambini alla asd valceresio cri era un ragazzo semplice e ben voluto da tutti racconta responsabile degli educatori dell'oratorio arcisate filippo ferrarotto erano felici ha aggiunto un amico anche perché avrebbero dovuto partire per le vacanze proprio oggi a esprimere il cordoglio di tutta la comunità è il sindaco gialluca cavalluzzi un evento tragico e doloroso per tutti ma soprattutto per quei poveri genitori al quale va il mio pensiero e la mia disponibilità di fronte a qualunque loro richiesta d'aiuto voltiamo pagina e passiamo al maltempo un'altra notte da dimenticare in provincia di varese in lombardia si contano danni per centinaia di milioni di euro e la regione si appresta a chiedere al governo lo stato di emergenza ce ne parla il collega pasquale martinoli due nubi fragili nella stessa giornata e già questo è un record aggiungiamoci poi l'intensità così non si registravano da parecchi anni hanno spiegato oggi dalla regione all'indomani del maltempo che ha flagellato con grandi nel basso laresotto e l'alto milanese scatta la conta dei danni il presidente della regione attilio fontana parla di centinaia di milioni e viene chiesto lo stato di emergenza che il governo potrebbe riconoscere alla lombardia già oggi legnano e salonnese tra le zone più colpite allagamenti alberi precipitate sulle auto danni alle case e persone rimaste ferite decine gli interventi dei vigili del fuoco il primo nubifragio si è verificato a ieri all'ora di pranzo il bis all'ora di cena con preludio da apocalisse cielo oscuro e opprimente il maltempo è cessato così come l'allerta arancione diramata dalla protezione civile ma i temporali sono dietro l'angolo il rischio già giovedì sera code disagi questa mattina a cantello dove in seguito a un incidente stradale un tir si è completamente ribaltato in mezzo alla provinciale mandando in tilt il traffico ce ne parla nicola torrello un camion ribaltato due auto distrutte e una delle principali strade dell'alto varisotto chiusa per 6 ore è successo alle 8 e 30 di stamattina martedì 25 luglio all'altezza del maneggio maggiolina di cantello dove un incidente senza feriti gravi ha provocato la chiusura della sp3 qui un camion si è ribaltato su un lato occupando tutta la cargiata e coinvolgendo due automobili a quanto pare il mezzo pesante ha perso il controllo cercando di evitare un'invasione di corsia sbandando e ribaltandosi su un fianco la dinamica al vaglio delle autorità intervenute che hanno soccorso quattro persone ferite tutte in modo non grave sul posto hanno operato i vigili del fuoco della sede di varese assieme a motogru del comando di milano oltre carabinieri di varese un eli soccorso e altri mezzi del 118 allarme truffe a varese stavolta i professionisti del raggiro agiscono per telefono vediamo servizio le vie della truffa sono davvero infinite e sempre più di frequente squillano al telefono la questore di varese ha messo infatti in guardia dai raggiri ritentati da finti operatori pubblici che inducono a compiere operazioni bancarie lo stratagemma mira fa spostare somme di denaro su carte prepagate facendo credere che così i risparmi saranno al sicuro ma si tratta appunto di truffatori e il fenomeno delle trappole telefoniche è in aumento la questura consiglia di non dare corso a movimenti bancari al telefono e di contattare il proprio istituto di credito altra precauzione mai cliccare su link arrivati da mail non conosciute e in caso di sospetti di truffa segnalare la questione alle forze dell'ordine e sempre la polizia di stato questa mattina è stata la fondazione molina di viale borri a varese per una mattinata decisamente particolare vediamo il servizio con immagini blitz oggi la polizia di stato ci ha onorato della sua presenza insieme al vice sindaco per usin è un momento di gioia per il molina è un momento di festa non solo perché la sensibilità delle istituzioni ancora una volta si è rinnovata al molina ma perché i nostri anziani sono stati molto contenti di questa iniziativa ci sono anche stati due cani un cane per la ricerca degli esplosivi un altro cane anche per la ricerca di persone scomparse hanno fatto una dimostrazione ho visto i nostri anziani i nostri ospiti sorridere e vorrei riassumere il senso di questa giornata con una frase che un membro della polizia di stato addestratore di un cane ha detto a un nostro residente stavano parlando i due e un nostro anziano ha detto il poliziotto grazie che siete venuti perché noi ci sentiamo protetti l'addestratore il poliziotto ha risposto siamo noi che ci sentiamo protetti da voi grazie 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 giornata da ricordare quella di oggi a caldana di cocchio trevisago dove dopo un lungo restauro le cinque campane si apprestano a tornare in cima al campanile vediamo servizio saranno estate domani sul campanile della chiesa della beata vergine assunta di carnesio a cocchio trevisago le cinque campane fresche di restauro oggi l'evento storico è stato celebrato con una messa presieduta dall'arcivescovo di milano mario del pini questa occasione di guardare in alto ha ricordato il prelato ci ricorda che le campane sono la voce fedele della chiesa annunciano la pasqua l'intervento di restauro si è reso necessario in quanto le campane erano usurate interessate da un problema strutturale del sistema di supporto sebbene di dimensioni diverse le cinque campane hanno tutte la stessa età risalgono al 1949 dopo che le precedenti erano state fuse durante il tempo di guerra e hanno avuto origine nella fonderia angelo bianchi e figli di varese tutte riportano i nomi di sacerdoti e lo stemma pontificio gallarato in festa oggi per il santo patrono della città durante la funzione il prevosto monsignor riccardo festa ha lanciato un messaggio molto particolare ce ne parla elisa ranzetta il lavoro ho vissuto come luogo di carità ma soprattutto il tema della casa dare in affitto l'appartamento di famiglia che è rimasto vuoto e aiutare una famiglia che cerca casa è una delle sfide per il bene comune che il prevosto di gallarate monsignor riccardo festa ha indicato martedì mattina dall'altare della basilica di santa maria assunta in occasione della messa per la festa del patrono san cristoforo parrocchie ha indicato il sacerdote sono pronti a sostenere anche a livello pratico chi volesse farsi avanti don festa ha indicato inoltre la volontà di proseguire con l'esperienza di casa erosia il centro di accoglienza nato tre anni fa come frutto del voto alla madonna della comunità cristiana gallaratese per dare un tetto a chi non l'aveva come potremmo immaginare di chiudere tutto ha detto il sacerdote che ha lasciato aperto la porta anche per la sperimentazione da parte della comunità cristiana di nuove forme di accoglienza dedicate alle persone fragili padri separati madri sole famiglie numerose e lavoratori precari come possono essere gli insegnanti chiamati da fuori regione per sostituzioni di pochi mesi e questa è l'ultima notizia l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19 una buona serata grazie a tutti